Da domenica notte a terra pelata a Caltanissetta, dopo il boato sentito dai residenti, si alternano tecnici comunali ed esperti. Sembra siano una ventina le bocche eruttive in piena attività nell'area dei Vulcanelli. La preoccupazione che potrebbe esserci qualche emissione di gas è argilla. Quello dei Vulcanelli è un fenomeno che non manda mai segnali preventivi. La mini esplosione di domenica notte e la modesta attività eruttiva sono sintomi che non vanno sottovalutati. In quest'area purtroppo per una bocca che si spegne se ne apre un'altra, dichiara il geologo Arcangelo Pirrello.